c'è un bel appare a noi e gli ecco di bruciolecchia e appare a noi se ne vedo invece tutta, se ne va tutta non si accattano i prodotti non servono a niente non servono a niente l'ecco di bruciolecchia e risulta la questione su che eccetto l'ecco di bruciolecchia? tutto corso perché adesso attacca la massa l'acqua di bruciolecchio contro il peronospero